Siamo a Calongo, la terra dove 50 anni fa mio zio, padre Giuseppe Ambrosoli, chirurgo e missionario convognano, ha fondato un ospedale e una scuola di ostetricia. Padre Giuseppe arriva in Uganda alla fine degli anni 50 e con pochissime risorse umani e materiali avvia quello che allora era un piccolo dispensario fino a farlo diventare una struttura sanitaria attrezzata. Negli anni 80 il nord Uganda viene devastato da una terribile guerra civile, costretto a evacuare l'ospedale con tutti i pazienti e il personale, padre Giuseppe non sopravvive a questo dramma. Muore a Lira il 27 marzo 1987 e le sue spoglie riposano oggi qui a Calongo tra la sua gente. L'ospedale di Calongo viene riaperto dopo tre anni e alla sua guida viene chiamato padre Giglio Tocalli, un altro missionario convognano e medico. Sotto la sua direzione l'ospedale riesce a sopravvivere per un altro ventennio drammatico di guerra civile. Oggi l'ospedale di Calongo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per un'area popolata da mezzo milione di persone. Dipartimento OPD, ovvero il Dipartimento per esterni, rappresenta il primo livello di assistenza sanitaria. In Calongo il Dipartimento riceve tutti i giorni qualcosa che va tra i 50 e i 100 pazienti. È un Dipartimento che deve occuparsi di tutte le patologie. Quello che in Italia è rappresentato dal medico di famiglia, qui non c'è, ma c'è appunto l'OPD, il luogo dove le mamme portano i bambini quando sono malati. I pazienti non vengono soltanto diagnosticati, ma gli viene anche somministrato il trattamento. La sala operatoria è un altro punto cruciale dell'ospedale. In un anno riusciamo a fare qualcosa come 1500 interventi, di cui almeno 500 sono interventi cosiddetti maggiori. È una patologia prevalentemente di tipo addominale, però anche frequenti sono la patologia post-traumatica, quindi incidenti stradali che in questa regione sono frequenti, considerando le condizioni delle strade. La maternità è un altro reparto molto importante e basilare per l'ospedale. Riceve qualcosa come oltre 3000 donne all'anno, quest'anno avremo circa 2900 parti. Le donne arrivano all'ospedale perché questo è il centro unico nella regione per l'assistenza materna. Il reparto di pediatria è sempre un reparto molto affollato in Africa. Vi troviamo non soltanto i bambini, ma vi troviamo le mamme. Le mamme che passano l'intera giornata col proprio bambino e anche la sera dormono insieme al bambino. Accanto all'ospedale c'è la scuola specialistica di ostetricia. La scuola è stata fortemente voluta fin dall'inizio da padre Giuseppe per promuovere l'autonomia professionale e umana delle nuove generazioni. Oggi la scuola di ostetricia rappresenta un punto di eccellenza ed è riconosciuta come la miglior scuola d'ostetricia d'Uganda. Le sue ostetriche vengono chiamate da molti ospedali non solo dell'Uganda, ma anche di molti altri paesi dell'Africa Subsahariana. Per i pazienti con HIV e AIDS l'ospedale ha un servizio ambulatoriale in cui trattamento e assistenza psicologica vengono offerti, però molti pazienti vivono lontano dall'ospedale o hanno condizioni di salute critica che non permettono loro di recarsi in ospedale. Per questo motivo l'ospedale ha organizzato un servizio mobile dove medici e infermieri si recano nei villaggi. Si tratta di un lavoro abbastanza impegnativo perché implica movimenti di un'intera giornata, visita a più di 3, 4, 5 villaggi, spesso a 30-40 km dall'ospedale e in strade in condizioni pessime. La fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital nasce ad opera della famiglia di padre Giuseppe Ambrosoli e dei missionari combognani per garantire un futuro all'ospedale di Calonga e alla scuola di ostetricia. La fondazione finanzia il fabbisogno corrente dell'ospedale che è condizione imprescindibile per l'erogazione continuativa dei servizi sanitari. Sostiene lo sviluppo professionale del personale dell'ospedale e la formazione specialistica della scuola di ostetricia. La fondazione ha raccolto l'eredità lasciata da padre Giuseppe Ambrosoli e grazie all'aiuto di medici, volontari e dei tanti suoi sostenitori lavora per garantire un futuro davvero diverso a quest'area desolata del nord Uganda. La straordinaria umanità, il straordinario carisma di padre Giuseppe sono ancora un segno tangibile qui a Calongo. La straordinaria umanità, il straordinario carisma di padre Giuseppe Ambrosoli e grazie all'interno del mondo. La straordinaria umanità, il straordinario carisma di padre Giuseppe Ambrosoli e grazie all'interno della scuola di ricerca.